Bentornati su MyFootballJersey. Siamo solo a febbraio ma iniziamo già a vedere le maglie per la prossima stagione. Questa è un'anticipazione della prima maglia dell'Inter Miami, per la stagione ovviamente che deve ancora incominciare, in edizione Player. Grazie a tutti. Maglia molto bella, rosa come da tradizione con queste rifiniture nere. Bello lo sponsor diciamo centrale, bellissimo il tessuto di Alidas. È ancora un'anticipazione quindi vedremo poi se verrà confermata però la base è sicuramente buona. Il costo lo vedete qui sopra? Incredibile, per una maglia fatta così bene è veramente incredibile. Se volete maggiori dettagli per ordinare la maglia trovate i riferimenti qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché oltre a questa maglia troverete tantissime offerte che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale, prima però mi raccomando iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto che dovete fare ma ci aiuta a mostrare le maglie belle come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! 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 I Selectioric te Jubilie sui. It's a tutti! I like diabhi che offre處, Ciao! Ciao!